Siamo con il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, vorremmo essere informati sulla situazione di alcuni lavori che sono partiti qui a Ravanusa, lavori già progettati e che sono in fase di cantierizzazione. Sono contento che in queste settimane si stanno realizzando tante opere che abbiamo programmato e che stanno consentendo di tenere Ravanusa come un cantiere aperto. Abbiamo completato già i lavori in una scuola, consentendo agli alunni già di avviare le lezioni in questa struttura rinnovata e ristrutturata. Poi ci sono anche lavori in altri edifici scolastici, un altro edificio in fase di completamento, speriamo di ridarlo alla popolazione scolastica entro il mese di ottobre. Stanno anche lavorando nella scuola materna a Valle dell'Abitato, in Via delle Scuole, che sarà completata a gennaio. Molti lavori anche di qualificazione urbana nel centro abitato, stiamo realizzando due rotonde in un'arteria fondamentale nella strada che attraversa tutta la cittadina, in fase di completamento anche diversi parchi di gioco che stiamo regalando ai bambini di Ravanusa e tante opere che stanno vedendo l'avvio e che veramente ci fanno stare orgogliosi dell'operato che sta facendo la mia amministrazione. A giorni, proprio questa mattina, abbiamo avuto l'incontro con la ditta che inizierà i lavori allo stadio perché rifaremo il manto in erba e riqualificheremo la tribuna e consideriamo che entro la metà di ottobre anche questi lavori inizieranno. Quindi il fatto che Ravanusa sia stato il comune più finanziato della provincia di Agrigento si sta tramutando in opere che si vanno realizzando e che consentono al comune di migliorare la propria vivibilità. Ecco, queste le cose diciamo in cantiere. So che ci sono anche altre iniziative che avete in corso di progettazione e di finanziamento. Se ci può anticipare qualcosa? Sì, l'opera più importante che abbiamo programmato e progettato è quella del consolidamento di una grossa fetta del centro abitato, un finanziamento che è già in fase di gara e che darà la possibilità di consolidare tutta la zona del centro storico grazie ad un intervento tramite il patto per la Sicilia che ci è stato finanziato dall'assessorato regionale al territorio e ambiente. Questo consentirà a tutti i cittadini che vivono in quella zona e a tutti i proprietari degli immobili che vivono in quella zona, oltre che di stare più sereni e vivere in serenità la loro vita, anche di consentire la ristrutturazione perché dopo l'intervento in quella parte di territorio il rischio geologico passerà da un rischio R4 rischio R2, R1 e quindi con la possibilità di intervenire anche nelle infrastrutture. Abbiamo anche in cantiere, perché è già stato approvato dal Consiglio Comunale, un progetto di riqualificazione urbana perché il Comune vorrebbe realizzare in un'altra parte del centro storico, riqualificandolo, una sorta di albergo diffuso per dare la possibilità ad un turismo low cost di anche venire nel nostro paese, sapendo che magari le richieste sono per l'Icata grigento, però a Ravanusa magari possono venire quelli che vogliono spendere meno e lì stiamo lavorando ad un progetto ambizioso che speriamo di avviare prima che finisce questo mandato amministrativo. Parliamo di turismo, parliamo anche di infrastrutture e di strade, il famoso problema del ponte l'avete risolto? Il problema come sempre dico è una triste pagina di Sicilia perché naturalmente i tempi che ANAS, lo Stato, ha impiegato per arrivare a questa soluzione sono stati certamente lunghi. io settimanalmente almeno due volte vado a fare sopralluoghi proprio per tenere alta l'attenzione e stare col fiato sul collo del direttore generale che l'ingegnere Mele che da quando si è insediato ha dato ampia disponibilità. Già ho visto proprio ieri che le travi sono state alzate quindi io ritengo che nei prossimi 60-70 giorni questi lavori potranno essere completati e finalmente venga ridata alla nostra comunità ma anche alle comunità dei paesi viciniori, Licata, Campobello, Canicattì, venga ridata la possibilità di percorrere questa strada che ha causato anche tanti danni economici alle aziende che in questo territorio operano e che hanno visto il loro fatturato a volte anche dimezzarsi. Ecco Sindaco parliamo della zona industriale, so che ci sono anche delle novità, degli insediamenti nuovi, so che c'è un raccordo anche con l'IRSAP per delle iniziative. Ma ci sono iniziative importanti da parte dei privati, noi per esempio che anche sono utili per la nostra amministrazione. Un esempio per tutti è la ditta Ecoface dove noi conferiamo il materiale differenziato e ci aiuta a portarlo nelle varie filiere. Però stiamo anche di concerto con la SRR e con l'assessorato regionale all'energia, stiamo tentando di spingere la realizzazione dell'impianto di compostaggio che rientra tra le opere finanziate nel Patto per la Sicilia e che potrebbe consentire e garantire ai cittadini dei paesi della zona di poter portare l'umido proprio alla zona industriale di Ravanosa. Con un abbattimento dei costi di gestione e quindi un abbattimento delle tariffe per i cittadini che oggi sono gravati di spese che non possono più sopportare. Quindi deduco che la raccolta differenziata che avete iniziato, di cui abbiamo parlato la scorsa volta, sta andando bene. È superata l'estate e solitamente stiamo vedendo che in altri comuni, per esempio come Agrigento, in estate invece l'umido aumenta perché la portano gli altri comuni. A Ravanosa questo succede? No, a Ravanosa noi siamo partiti decidendo assieme alla società pubblica di intervenire con la raccolta porta a porta in tutto il territorio e poi sono i numeri che parlano e che oggi mi soddisfano perché noi siamo passati da un conferimento in discarica del mese di febbraio quando ancora non era partita la raccolta differenziata che costava al comune circa 50.000 euro al mese o un report per il mese di agosto dove abbiamo conferito rifiuti per 25.000 euro. Quindi abbiamo di fatto dimezzato il conferimento di materiale indifferenziato. Vuol dire che le percentuali sono notevolmente aumentate e c'è un doppio risparmio. Il costo inferiore dei soldi che portiamo in discarica è il guadagno che avremo dal materiale differenziato che porteremo alle filiere. Questo si trasformerà in investimenti in questo settore. Infatti stiamo già programmando con la società di rifiuti di rinnovare tutto il parco mezzi perché abbiamo costi di manutenzione elevati e consideriamo che con mezzi nuovi noi possiamo rendere un servizio migliore senza gravare sulle tasche dei cittadini. Quindi con il risparmio non aumenteremo le tasse ma miglioreremo il servizio. E questo grazie ai cittadini che hanno sposato in toto il servizio porta a porta e la raccolta differenziata. Certamente ci sono delle lacune e qualche incivile che ancora non fa la differenziata e magari butta qualche sacchetto per strada, però siamo determinati perché questa è la strada giusta, lo dicono i numeri, lo dicono i risultati e sicuramente non torneremo indietro. L'estate è passata, con la distribuzione idrica come è andata? La distribuzione idrica è andata piuttosto male perché questa è una piaga che attanaglia purtroppo non solo Ravanusa ma tanti paesi dell'Agrigentino. Lì c'è un ragionamento molto ampio che va fatto con il governo della regione, noi lo sollecitiamo da tempo come comune di Ravanusa perché a mio modo di vedere va rivisto il piano di distribuzione idrica regionale, non è possibile anche in provincia di Agrigento che ci sono comuni che hanno risorse idriche che soddisfano le esigenze dei cittadini e magari sono in sovrabbondanza e poi ci sono comuni invece che patiscono la sede. Bisogna ragionare in maniera omogenea, in maniera organica in modo tale che ci sia una distribuzione delle risorse idriche che non penalizzi alcuni comuni a vantaggio di altri e certamente il costo dell'acqua è un costo che va ridiscusso e lì il nuovo governo che si inserirà dopo il 5 novembre deve fare un ragionamento serio perché oggi dopo gli anni 2000 abbiamo svenduto tutte le risorse idriche, gli impianti ad una società che ormai ha la sede legale oltre che la cassaforte in Francia e ai cittadini facciamo pagare l'acqua per 79 centesimi al metro cubo. Questo non è possibile, il problema non si risolve dall'oggi al domani e non si risolve neanche con discussioni fumose che non portano a niente ma va affrontato affinché ci sia una gestione migliore, un servizio migliore, una dotazione e una tornazione degna da paese europeo e sia consentito ai cittadini di avere l'acqua più spesso e di pagarla meno. Sindaco, a proposito di acqua c'è una forte presa di posizione da parte del Lati, voi fate parte del Lati Agrigento perché le carenze sono tantissime di girgenti acqui, chiamiamo le carenze fra virgolette, però c'è anche la volontà, c'è stato un parere dell'avvocato Mazzarella del suo studio per cercare appunto di un parere su un'eventuale ipotesi di togliere il servizio a girgenti acque e con la sua posizione in questo senso qual è? La mia posizione è quella che si deve fare un ragionamento tra tutti i comuni della provincia di aggrigento e io credo che il problema non sia oggi al di là del servizio che come ho detto debba essere migliorato e certamente le bollette devono essere ridotte e quindi i costi devono essere ridotti. Se non c'è una riorganizzazione omogenea, come spesso ho detto anche al Lati, che consenta a tutti i comuni di ragionare su come deve essere gestito il servizio in tutti e 43 i comuni, non solo a Tavanusa o a Campobello perché non può essere che Menfi e Bivona lo gestiscano in maniera diversa e allora se c'è una rivisitazione di quella che è la gestione delle risorse idriche in maniera omogenea io credo che tutti ne beneficeremmo. Io non sono innamorato della battaglia tra pubblico e privato, dico certamente che la risorsa deve tornare al pubblico o quantomeno debba ritornare ai siciliani perché non è possibile che oggi si compri sia esso gestore pubblico sia esso gestore privato l'acqua ad 80 centesimi. Quindi la prima battaglia da fare è quella di ripubblicizzare la fonte idrica oppure fare una battaglia governativa perché ha la competenza della regione, perché questo costo si abbassi nettamente. Dopodiché stabiliremo qual è il migliore modo di gestire affinché i siciliani e gli agrigentini abbiano l'acqua ogni giorno ma anche noi ci accontenteremo a turni di un giorno sì e un giorno no e che comunque l'acqua venga pagata meno. Stiamo vedendo quanto sta succedendo a Roma e ne parla tutta l'Italia. Da noi è da sempre che c'è questa carenza idrica eppure il siciliano subisce, patisce e soffre in silenzio. Non è più tempo di patire e di subire perché è mortificante vedere tutte le reti nazionali che si occupano della città di Roma capitale che non ha l'acqua per otto ore in una giornata quando ci sono comuni come Ravanusa, Canicattì, Campobello, Licata che a volte non hanno l'erogazione da 15 giorni. È chiaro che questo, come sempre dico, non è un problema che può risolvere un sindaco singolarmente e noi ci auguriamo che ci sia un governo attento, un governo forte che una volta e per sempre voglia prendere le redini di questa tematica e risolverlo andando ad investire per rifare le infrastrutture ma soprattutto per dare una gestione omogenea e organica in tutto il territorio. Sindaco, passiamo un attimo velocemente alla politica. C'è stata anche qualche fibrillazione all'interno dei rapporti Consiglio Comunale, Assessore, ora come va? Si sono sanati la situazione politica al Comune Ravanusa? Che notizie possiamo dare? La fibrillazione è l'anima della politica come la pubblicità per il mercato. Diciamo che le discussioni ci sono ed è bene che ci siano però dal confronto, dal dibattito da queste discussioni poi se si fanno con onestà intellettuale si arriva sempre ad una soluzione, ad una mediazione nell'interesse preeminente del territorio. Ci sono stati dei momenti prima dell'estate che hanno visto il Consiglio Comunale in maniera forte fare delle richieste, a volte anche legittime, noi ci siamo posti sempre in una condizione di dialogo e alla fine questa posizione ha premiato tant'è che tutti gli atti sono stati approvati e quindi il Comune è stato dotato del bilancio di previsione e può oggi vantare una situazione serena che sta portando l'amministrazione a realizzare tutti quegli investimenti e a garantire tutti i servizi che servono alla nostra comunità. Come si vivono questi momenti di pre-campagna elettorale, un sindaco, chiaramente c'è un momento che si fanno le liste, la candidatura di tanti candidati a presidente, ecco lei è anche un esponente importante della politica provinciale agrigentina, una sua valutazione anche magari su come potrà andare a finire. La ringrazio per l'importanza, noi tentiamo di essere umili servitori, però è chiaro che per un politico, per chiunque sia appassionato di politica, i momenti più belli sono quelli della campagna elettorale, perché a parte si testa il lavoro che si è fatto negli anni precedenti, ma poi anche ci si confronta per poter pensare quale può essere la migliore soluzione per questa terra. Io come ho detto a tanti amici con cui discutiamo in queste ore, sia di politica, sia di quelle che possono essere le soluzioni per il domani e quindi per quelle che saranno le liste che si presenteranno per l'elezione al governatore del 5 novembre, è chiaro assolutamente che bisogna evitare la deriva populista perché abbiamo ormai delle prove che dove ci sono governi che vengono da quel malesse, da quel malumore, poi le soluzioni si trovano con difficoltà. Io ho sempre creduto in scelte moderate che portano a soluzioni che poi interessano la collettività e quindi i siciliani e su questo stiamo lavorando e io credo che nelle prossime ore, prima che si arrivi alla presentazione delle liste, si potrà dare ai siciliani una proposta credibile e seria che poi sposeranno, perché come sempre dico l'elettore è sempre attento anche quando sembra disattento e sa scegliere. Però bisogna dare una scelta credibile per sposare un progetto che vada nell'interesse dei siciliani e che faccia uscire la Sicilia da questo periodo di stagnazione in cui purtroppo questo governo che c'è stato ci ha fatti stare in questi ultimi anni. Il prossimo 7 ottobre, tra l'altro giusto per concludere questa intervista, si terrà un'interessante iniziativa incontro medicina e territorio, medicina di genere, si parlerà di tumori al seno, tumore all'ovario. Un'iniziativa importante a Ravanusa che parla di tematiche di grandissima attualità di cui sono medicina, i tumori, tanta carne al fuoco. Sì, un incontro di altissimo livello. Noi abbiamo voluto istituzionalizzare quest'anno questo incontro di medicina che ormai da sei anni si svolge a Ravanusa e che vede la presenza di relatori di fama internazionale perché siamo assolutamente convinti che dalla conoscenza possa derivare anche un giusto comportamento nel curarsi o comunque nell'impegnarsi a screening o comunque prevenire attività di prevenzione che possono evitare poi malattie degenerative. In questo certamente devo ringraziare l'impegno del dottore Ninotta che è sempre attento a queste tematiche e che riesce a coinvolgere ai più alti livelli dottori di fama nazionale e internazionale che con la loro presenza a Ravanusa danno segnali importanti al territorio e comunque mettono a conoscenza il cittadino di quelle che sono oggi i passi avanti che sta facendo la medicina. Credo che queste iniziative debbano essere ripetute spesso proprio per consentire alla nostra popolazione di avere una conoscenza dettagliata perché molte volte, lo ripeto, con la conoscenza si possono evitare degenerazioni e quindi a volte anche per salvare una persona questi convegni possono servire ed è per questo che il Comune di Ravanusa l'ha patrocinato e ha sposato in toto questa iniziativa. Grazie a tutti!